ciao a tutti e bentornati sul canale nuovo video vuota it in a day come ogni domenica se vi siete persi tutti gli altri video cliccate sulla i per vederli tutti iniziamo dalla mia colazione oggi ho deciso di prepararmi un budino ai semi di chia che va preparato il giorno prima quindi la sera prima prendete un bicchiere ci mettete all'interno due cucchiai colmi di semi di chia che potete trovare al supermercato adesso vi occorrerà del latte io in questo caso sto utilizzando il latte di soia al cacao e potete utilizzare il latte normale oppure quello al cocco quella la soia quella la mandorla quella l'avena quello che volete e mischiate bene e lo lasciate riposare una notte in frigo il giorno dopo praticamente si sarà formato il vostro budino adesso lo potete condire come volete per esempio io questa mattina ho deciso di metterci della frutta fresca come per esempio la banana e dei muesli questi poi sono buonissimi li ho presi all'idol e sono praticamente avena riso soffiato al cacao e gocce di cioccolato poi ovviamente questo budino lo potete preparare come più preferite magari mettendoci della frutta secca o un altro tipo di frutta per pranzo invece oggi ho deciso di preparare queste orecchiette con funghi salsiccia e noci brasiliane su una pentola ci mettete un po di olio un po di aglio e i funghi io ho preso i funghi quelli in scatola già pronti poi ci metto la salsiccia e la faccio cuocere insieme ai funghi poi magari ci metto anche un po di vino bianco per farla rosolare e cuocere meglio nel frattempo invece ho messo l'acqua per la pasta e quando appunto arriverà a ebollizione ci vado a mettere all'interno le mie orecchiette ovviamente voi potete utilizzare la pasta che volete e una volta cotte vado a metterle insieme ai funghi e a tutto il resto mescolo per bene poi infine ci vado ad aggiungere le noci brasiliane che sono queste noci molto grandi e davvero molto buone però io preferisco utilizzarle nei piatti oppure nei dolci mangiate così sono un po pesanti infatti le aggiungo un pochettino sulla pasta e sono davvero squisite mentre per quanto riguarda lo snack oggi ho deciso di preparare dei popcorn caramellati preparate prima di tutto il caramello vi occorrerà un bicchiere d'acqua e due bicchieri di zucchero io utilizzo per esempio lo zucchero di canna però l'ideale sarebbe lo zucchero bianco per vedere meglio quando si sarà formato il caramello perché deve diventare appunto color caramello invece lo zucchero di canna è già color caramello quindi è un po difficile lo dovete far cuocere comunque fin quando vi sembrerà più o meno addensato quindi una volta pronti i popcorn vado a metterci il caramello che si sarà un pochettino addensato quindi lo lasciate raffreddare e i vostri popcorn caramellati sono pronti sono davvero buoni sono diversi dal solito invece di mangiarli salati i mangiate dolci sono squisiti mentre per quanto riguarda la cena oggi ho deciso di prepararmi questo piatto completo di insalata insalata di pomodori olive pinoli e rucola accompagnati da delle patate che ho fatto lessare poi rosolare un pochettino in padella con un filo di olio spinaci lessi e un uovo e questo era tutto spero tanto che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate tanti like per farmelo capire e scrivetemi un commentino qui sotto per farmi sapere quale tra questi piatti vi è piaciuto di più io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima ciao